Diccelo proprio tu che è il tuo finalista ideale. Il mio finalista è chi può essere un finalista? Amauris. Amauris. Un voto da Nino. Un voto molto importante. Ciccione proprio, è un ciccione lì. Andiamo avanti con Jonathan. Per me deve essere finalista Bianca. Bianca. Un voto anche per te. Il voto che potrebbe spostare tutto è quello di Alessia. Manca Alessia, sì. Vai Alessia. Amauris. Amauris, quindi due voti per Amauris. E quindi Amauris è il primo finalista dell'Isola dei Famosi. Amauris. Complimenti. Devi ringraziare i tuoi compagni. Complimenti da Amauris. E... Sei contento? Amauris. Sta piangendo, ce l'ha fa parlare. Emozionato. Emozionatissimo. Emozionato. 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 Emozionato.